Ieri il Presidente della Regione Cristian Solinas ha inaugurato il nuovo centro di terapia del dolore nei locali rinnovati dell'ospedale Marino. Dopo decenni di chiusure pianificate da destra e sinistra nel suo alternarsi con continuità alla guida della Regione, è forse, vado a memoria, la prima inaugurazione di un centro ospedaliero, sicuramente per la tipologia che lo contraddistingue. Ovviamente, seppur importante, l'evento di ieri costituisce una goccia nell'oceano. Certo è però che l'oceano stesso è composto da tante gocce d'acqua e ognuna è determinante per il suo importante apporto, senza le quali l'oceano non sarebbe tale e, nel nostro caso, il sistema sanitario nazionale verrebbe meno. Il lavoro da compiere è enorme, la politica può se il sistema gestionale sanitario nel suo insieme consente. Ovviamente la politica e i sistemi gestionali in genere sono figli di una società che si adegua e sfrutta opportunità individuali a discapito di quelle generali di cui una comunità dovrebbe beneficiare. La tipologia di questo centro ospedaliero risulta di enorme importanza in un contesto per cui questi servizi vengono delegati a soggetti privati, cui non tutti possono accedere. È da valutare positivamente anche l'ubicazione per cui la bellezza circostante concorre ad agli etari un percorso estremamente difficile cui tanti si trovano ad affrontare senza ritorno. Ci auguriamo che questo evento costituisca un momento di svolta e, ovviamente, questo lo capiremmo nei prossimi passi che la Giunta, seppur in uscita, saprà compiere.